Beatniks è un progetto nato dalla collaborazione con Edmondo Berselli, con cui Shell Shapiro, accompagnato da Alessandro Giulini, fisarmonica e tastiere, e Daniele Ivaldi, chitarra acustica e elettrica, ci conduce con la sua inconfondibile voce e la sua imponente presenza scenica attraverso una rilettura dei segni lasciati da quelli che sono stati i maggiori poeti della Beat Generation. Letture maledette, testi considerati scomodi se non addirittura censurati dalle istituzioni, forse anche per questo entrati nel mito. Dei racconti della nascita del Beat Generation, e come questa Beat Generation però, cioè Falingetti, Barrows, Kerouac, Ginsberg, come in qualche modo hanno contribuito a influire su gente come Dylan, come la musica country, quello del folk americano, in qualche modo ha contribuito a formare il rock and roll, o la musica rock, e il cambiamento di linguaggio, perché con l'arrivo di Bob Dylan il linguaggio nella musica è cambiato totalmente. In America e di conseguenza in Inghilterra, i Beatles hanno cambiato il modo di scrivere, i Rolling Stones anche, cioè tutti. Allora, loro hanno cambiato la forma di comunicazione. E allora Beatrix racconta queste cose qui, con la musica, chiaramente per spiegare certe cose, o per sottolineare, insomma.